Siamo con Sergio Bellavita dell'opposizione CGL, sindacato un'altra cosa, è passato del Job Act, c'è stato uno sciopero generale, non è stato tenuto in considerazione uno sciopero generale, nemmeno le parere delle commissioni parlamentari, che sta succedendo in Italia? Sta succedendo quello che da tempo denunciamo, il fatto che c'è delle politiche del rigore in questo paese esattamente simili a quelle che ha devastato la Grecia, noi abbiamo forse un anno, due anni, diciamo, meno della Grecia rispetto a questo processo, ma la politica ha deciso sostanzialmente di applicare alle stesse ricette che l'Unione Europea applica ovunque, quelle che prevedono la riduzione del Stato sociale, la totale flessibilità e variabilità del lavoro, il regime di ricattabilità del lavoro, con la libertà di licenziamento assoluta e di fronte a questo c'è l'assenza completa di un'opposizione sociale adeguata. Lo sciopero generale del 12 dicembre, che è riuscito, è arrivato tardi ed è stato un po' vissuto e costruito come la conclusione, cioè lo sciopero che ha testimoniato la forza dell'organizzazione potenziale, ma non si è speso davvero quel potenziale per poi cambiare le politiche del governo. Voi siete molto critici del gruppo dirigente della CGL attuale, addirittura chiedete il suo cambiamento, la sua rimozione. Non c'è dubbio, il gruppo dirigente se ne deve andare, ha delle responsabilità enormi per quello che è accaduto. Renzi ha attraversato il Jobs Act e alla fine ha vinto una sua scommessa, che non era scontato che vincesse, e la CGL ne esce a pezzi. Ne esce a pezzi perché il mondo dopo il Jobs Act non è più quello prima del Jobs Act. È cambiato qualcosa, è cambiata la costituzione sostanziale di questo Paese, la possibilità stessa di fare sindacato per i lavoratori, di organizzarsi. Non è la stessa cosa avere la minaccia di un licenziamento che può essere combinato senza nessuna ragione e tu sai che perdi il posto di lavoro in questa fase di crisi, è invece la garanzia di una stabilità di poter esercitare i diritti civili e politici e sindacali che ti vengono riconosciuti formalmente dal resto dello Stato di diritti dei lavoratori. Poi avete indicato una strada per reagire allo Jobs Act, referendum più mobilitazione nei posti di lavoro. Sì, c'è bisogno di ricostruire una linea contrattuale rivendicativa che sia adeguata alle sfide di questa fase, che prenda atto di quello che è successo con il Jobs Act, che non lo accetti e che quindi sia nel luogo di lavoro, che sono le grandi vertenze, metta in campo il conflitto necessario per la non applicazione del Jobs Act ma soprattutto anche per l'uscita dal meccanismo e dal modello della contrattazione e ristituzione. Bisogna rispondere ai bisogni sociali, i bisogni sociali oggi sono sempre più stringenti e non c'è nessun sindacato in questo Paese che stia elaborando una linea per rispondere a questi bisogni. I bisogni cominciano ad essere primari e unificanti, il lavoro, il salario, l'idea di un minimo di stabilità, il diritto alla pensione che è stato cancellato, chi ricostruisce e come ricostruisce questa rete di diritti se non attraverso una piattaforma generale che mette insieme il mondo del lavoro stabile, tra virgolette, con quello precario, cioè che crea una condizione unificante sulla quale ricostruisce e chiama la lotta. Lo dico proprio così ma se la CGL dovesse proclamare fra un mese uno sciopero di quattro ore senza una nuova piattaforma nessuno capirebbe qual è la ragione dello sciopero. Noi non abbiamo più bisogno di sciopero, di testimonianze rituali, abbiamo bisogno di costruire iniziative di lotta che siano in un quadro di riaffermazione e di ricostruzione di nuovi rapporti di forza. Questa vostra strategia come sta in relazione con la proposta che ha fatto Landini in questo momento di costruzione di una alleanza sociale anche sul piano politico? Allora qui il discorso è complicato perché è molto per addetti ai lavori, lo voglio dire che i mass media, visto che la stampa e la televisione si appassionano all'idea che Renzi abbia finalmente un avversario, diciamo, perché è tutto interno lo schieramento del centro-sinistra. Dal punto di vista sindacale e sociale bisognerebbe capire bene cosa vuole fare Landini perché se è l'idea di costruire una rete di soggetti che sulla base appunto di una piattaforma generale di lotta, di conflitto, sperimenta senza pensare a cartelli elettorali, la ricostruzione di rapporti di forza, di rispondere ai bisogni sociali, allora sì ci stiamo, se è questa l'idea. Se invece l'idea è un'aggregazione di vertice che fa periodicamente una qualche assemblea per avere un'novazione in più, un'novazione in meno, per stare nel campo mediatico e non nel campo concreto è un'operazione che non ci interessa. Oltretutto il sindacato se davvero vuole contribuire a ricostruire una soggettività politica in questo paese ha bisogno intanto di cominciare a fare il sindacato ed è un po' che non fa più il sindacato. E di questo discuterete in un seminario a marzo? E di questo discuteremo in un seminario di tre giorni a marzo che abbiamo voluto mettere in campo proprio per immaginare quale possa essere l'iniziativa sindacale e politica nel mondo del Jobs Act. Cioè quando il sindacato diventa incompatibile, i bisogni sociali diventano incompatibili perché il mercato domina e predomina su tutto. Non c'è una soluzione immediata, c'è una strada su cui elaborare, su cui riflettere, ma non poteva ridursi tutto a un'assemblea è un'ovazione ma quanto invece è una riflessione puntigliosa, rigorosa, anche su quello che noi siamo e su come noi possiamo avere un ruolo nella ricostruzione del conflitto.